Vedi che parlano spesso della Fornero delle pensioni, sulle pensioni questa legge di stabilità vi piace? Ma non fanno un accidente, se pensano di risolvere il problema offrendo il part time a gente di 63 anni che lavora da più di 40 anni non hanno capito niente, la legge Fornero va cancellata, punto e basta, dicono non ci sono i soldi, però è strano che non ci siano i soldi per cancellare la legge Fornero e invece stiano trovando i soldi per garantire le pensioni di reversibilità alle coppie gay. Mi sembra un Parlamento marziano.